Buongiorno Fagnano, ben ritrovati col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, buon 2024 a tutti. La scorsa settimana non abbiamo fatto il tradizionale video di informazione e abbiamo scritto sulla pagina Facebook del Comune che ci sarebbero state novità, nella realtà in questo video non ci saranno novità, ma dai prossimi video qualche novità ci sarà e con il tempo vi spiegheremo anche quali saranno queste novità, ci sarà un modo anche per poter partecipare al video, ma più avanti ve lo diremo. Sul sito internet istituzionale del Comune di Fagnano è presente una sezione dove sta scritto che l'amministrazione comunale ha aperto una manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di eventi culturali. Se ci fossero aziende, attività commerciali o artigianali interessate a sponsorizzare eventi culturali all'interno del nostro Comune di Fagnano, non deve fare nient'altro che andare sul sito istituzionale e cercare il modulo per poter partecipare. Ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al premio letterario dal titolo Ed io rinascerò in nuove parole dedicato a Sergio Belvisi. Per partecipare e per informazioni scrivere alla mail circoloculturalealba.gmail.com. Per gli eventi del fine settimana non abbiamo niente da segnalare, ricordo anticipatamente che la settimana prossima nel fine settimana ci saranno le celebrazioni ufficiali per il Santo Patrono di Fagnano che è San Gaudenzio, la festa patronale è il 22 dicembre e gli uffici comunali, comprese le scuole, saranno chiusi, ma la festa viene celebrata il domenica 21 con la consegna delle civiche benemerenze. Ma di questo parleremo nel prossimo video. Mentre vi ricordo che giovedì 18 presso la Sala Cammino, che poi è la sede della Proloco all'interno del Comune di Fagnano Lona, alle ore 21 ci sarà la prima riunione, il primo incontro dei gruppi di cammino, perché come avete letto abbiamo istituito i gruppi di cammino all'interno del nostro Comune. Quindi per chi vuole partecipare, chi fosse interessato all'iniziativa, vi invito a partecipare a questo incontro. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!